A circa mezzanotte e 54 minuti, ora italiano, una violenta scossa di terremoto ha colpito il Cile centrale. L'epicentro infatti è stimato nella regione di Coquimbo a circa 400 km a nord della capitale e la magnitudo è di 8.3. L'allerta tsunami è stata degradata a stato di attenzione, allerta per la quale sono state evacuate circa un milione di persone lungo un tratto di costa lungo circa 5.000 km. Al momento sono almeno 5 le vittime accertate, però la situazione è in continua evoluzione. Tutti gli aggiornamenti li potrete comunque consultare anche sul sito trebimetro.com.